Allora ragazzi, prima di iniziare col video vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un commento su cosa vorreste vedere in futuro e di seguirmi su Instagram per potermi dare consigli e idee su cosa vorreste vedere attraverso sondaggi che metterò poi in futuro Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide Nguyen e questo qui è un video presentazione del mio canale molto probabilmente credo che sarete arrivati qui dopo il video che ha pubblicato ZV Jackson, ovvero Antonio che ha appena caricato e che ringrazio tantissimo per l'occasione e per l'opportunità come avrete già visto nel suo video credo che avete avuto modo di capire un po' di cose su di me e diciamo che pian piano iscrivendomi al canale e seguendomi avrete modo di conoscermi meglio attraverso i video che caricherò in futuro cercherò di mostrarvi la vita di un calciatore e di un teenager sotto tutti i punti di vista a 360 gradi e magari seguendomi su Instagram e rispondendo ai sondaggi che pubblicherò in futuro oppure commentando sotto ai video che pubblicherò mi darete delle idee da poter mettere sul canale diciamo che potremo continuare a crescere insieme e io potrò continuarvi a registrare i contenuti da appunto pubblicare diciamo che come cercherò di pubblicare tutti questi video per voi pubblico probabilmente dall'Italia cercherò di fare anche lo stesso al pubblico che si trova in Vietnam oppure altre persone che mi guarderanno da altre parti dal mondo non si sa mai e ci sarà la possibilità che forse parlerò in altre lingue ad esempio vietramita però cercherò di lasciare sempre i sottotitoli in italiano per agevolarvi e lasciarvi le cose in maniera più semplice in modo che possiate comprendere alcune volte potrete anche vedermi balbettare o incepparmi nei discorsi però diciamo che tutto ciò è dovuto alla conoscenza di molte lingue e tante volte si mischiano i termini e tutto quanto il resto con l'italiano, vietramita, inglese o qualsiasi lingua essa sia e di ciò vi chiedo scusa se magari faccio qualche errore di troppo inoltre, oltre a portare contenuti sul calcio credo che condividerò anche video oppure vlog sulla vita in Italia o in vietram o in qualsiasi paese vado a visitare anche al di fuori dal contesto calcistico perché magari alcune altre persone saranno curiosi di vedere come è lo stile di vita in determinati posti quindi ci sarà anche maniera di vedere qualche cosa extra al di fuori dal campo allo stesso tempo c'è modo e maniera di potervi mostrare la differenza di vita, di culture, di turismo e di usanze sia nel calcio che nella vita e in qualsiasi altro aspetto perché comunque sia tra Italia e vietram ci sono circa 10.000 km di distanza e sono possiamo dire due mondi completamente diversi e ciò è tutto, spero che le idee per questo canale vi piacciano e spero che continuate a seguirmi in questo periodo e anche nel futuro e potrò sembrare ripetitivo ma vi ricordo un'altra volta di seguirmi su Instagram davideguyen-5 e di iscrivervi al canale lasciare qualche commento su qualche idea da mostrarvi e ci sentiamo in un prossimo video grazie a tutti per il vostro tempo